Sisma Turchia-Siria, le sono 9.500. ANSA, Istanbul, 8 febbraio secondo dati ufficiali, il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera i 9.500 morti. Secondo i dati ufficiali diffusi questa mattina, in Turchia sono stati estratti dalle macerie 6.957 corpi, secondo l'Agenzia di Soccorso Turca Afad, e in Siria sono stati contati 2. 547 morti, secondo le autorità e i medici, ANSA, virgola.